Quarta uscita stagionale per il frosinone di Mr. Nesta, che allo stadio Bria Masco di Trento ha affrontato il Lecce, neopromosso in Serie A. Le due squadre non si incrociavano dalla finale dei play-off per la Serie B, dal giugno 2014. Prima azione degna di nota al minuto 12, destro da fuori di Paganino e grande risposta di Gabriel. Al quindicesimo ancora giallo-azzurri pericolosi. A provarci a Gori da ottima posizione, il gol è nell'area e arriva al minuto 26. Al quarantesimo a provarci a il Lecce, tiro dal limite di Tazidis e deviazione in angolo di Bardi. Termina così la prima frazione di gara e nella ripresa al decimo il Lecce trova la rete del pareggio, calcio di punizione battuto dal neoentrato Falco, da posizione di filata e stacco imperioso di Mecciariello. Al diciannovesimo ancora Falco pericoloso, sinistro da fuori e bella risposta di Bardi. Al ventiseiesimo il Lecce passa in vantaggio, cross perfetto dalla sinistra di Aie e colpo di testa del solito Falco che trova la rete del 2-1. La squadra di Liverani trova anche la rete del 3-1 al minuto 34. Cross dalla sinistra e tappina vincente di Lapadula. Nel finale Dubicas chiude definitivamente il match con la rete del 4-1. Sono soddisfatto ha esordito l'allenatore del Frosinone per il modo in cui i ragazzi hanno gestito la prima frazione di gioco. Poi quando ci siamo abbassati abbiamo rischiato tanto e preso gol. La nostra squadra deve avere l'abitudine di non mettersi paura di aver coraggio e restare a testa alta.